Quindicesimo episodio per la parola AVGN. Saranno troppi? Beh, forse, ma noi ce ne sbattiamo e andiamo avanti. Stasera, visto il periodo tanto ricco di novità videoludiche, abbiamo deciso di parlare un po' di quei titoli che usciranno a breve, però non soltanto, abbracceremo una fascia temporale abbastanza estesa, così che ognuno di noi potrà trattare del gioco che più o meno li tiene interessante. Ma prima di iniziare, un saluto da Megal. Salve! Un saluto da Simone. Eila, ciao a tutti. E infine il nostro Giacomino. Salve! Io sono Leandro Rossi, come avrete capito, e partiamo subito perché la puntata è molto ricca. Allora, Giacomo, volevi parlarci di Metroid, Other M e Alan Wake, se non ricordo mai. Esattamente. Allora, Metroid Other M è il nuovo capitolo per Nintendo Wii della famosissima serie Metroid che tutti quanti di sicuro conoscete. È un nuovo episodio che però si scosta parecchio da, ehm, dalla trilogia Prime nata su Gamecube e continuata con Metroid Prime 3 Corruption su Nintendo Wii. Metroid Other M è molto particolare in quanto c'è un vero e proprio ritorno alle due dimensioni rispetto a quanto invece fatto con i capitoli per Gamecube e Wii della serie Prime. Proprio perché si è quasi totalmente abbandonata la prima persona e si è scelti di ritornare ad uno scrolling laterale, cosa in effetti un po' particolare nel 2010, insomma. E la cosa interessante è che però la prima persona non è stata totalmente dimenticata, in quanto, ehm, per esplorare le ambientazioni piuttosto che per colpire alcuni nemici, alcuni punti deboli di certi boss o per, ehm, anche semplicemente trovare alcuni oggetti nascosti, eccetera, eccetera, la prima persona appunto, ehm, ritornerà in maniera statica però perché quando la utilizzeremo non potremo muoverci ma soltanto mirare per lo schermo e sarà nel... Ecco ma questo è sicuro, no volevo schiederti ma questo è sicuro cioè che quando ci sarà la prima persona non ci si potrà muovere? Sì sì. Sì, quindi resteremo fissi sul post. È sicuro sì, infatti dai video che sono comparsi, ehm, per esempio ci si ferma, si esplora un attimo le ambientazioni con la prima persona, si trovano eventuali oggetti o via nascoste e poi si prosegue. Anche durante i boss, ehm, da quello che ho visto è una cosa comunque abbastanza dinamica il passaggio dalla seconda alla prima persona, cioè dalla terza laterale alla prima persona in 3D e serve appunto per mirare certi punti precisi dei nemici e cose di questo tipo. La cosa molto bella comunque è che il progetto è in mano dal punto di vista del tecnico al team ninja. Se non conoscete il team ninja è il creatore della serie Ninja Gaiden e Dead or Alive, in particolare Ninja Gaiden che è uno, penso, dei migliori action realizzati nonostante il grande livello di difficoltà. Vabbè, insomma, a parte questo. E comunque, il, come si dice, il titolo non è stato dato in gestione totalmente al team ninja, in quanto vi è a supervisionare, logicamente, Nintendo. In particolare, Yoshio Sakamoto, che è uno dei designer storici della serie, è a capo del progetto. e quindi, diciamo che il rischio di vedere Metroid snaturato è molto basso, diciamo, in quanto, appunto, essendoci una stretta supervisione di Nintendo, come d'altra parte è successo per Metroid Prime, non c'è appunto il rischio di vedere un abominio. Ma, anzi, da quello che abbiamo potuto visionare nei video, l'atmosfera c'è tutta. E, infatti, il gioco parte ancora una volta all'interno di una stazione spaziale abbandonata. Ennesimo richiamo a Super Metroid prima e Metroid Prime dopo. E in o... Hai già detto, cioè, non so se mi hai sfuggito, però, riguarda la trama che è legato proprio anche a Super Metroid. Esatto. A livello di trama, oltretutto, è collocata tra Super Metroid e Metroid Fusion. E ricordiamo che Metroid Fusion è cronologicamente l'ultimo episodio della serie. Infatti Prime è una sorta di bolla temporale tra Metroid e Metroid 2. Metroid 2 è apparso su Game Boy, ricordiamolo. Va bene, e... Sì, esatto. Quindi questo episodio si collocherà tra Super Metroid e Metroid Fusion. E racconterà più nel dettaglio il personaggio di Samus. Lo esplorerà in una maniera un po' più approfondita rispetto al passato. E quindi... Il titolo è davvero molto promettente perché ci sono davvero molti elementi interessanti come anche, per esempio, il level design che, a quanto pare, è stato mantenuto abbastanza labirintico come in Super Metroid e i potenziamenti e tutte queste cose qui. Anche, comunque, dal punto di vista tecnico, il lavoro svolto sembra essere stato davvero ottimo. D'oltre parte il Team Ninja... A parte Ninja Gaiden 2, che comunque non è il massimo. Però, diciamo, nella generazione passata, con le passate console, ha sempre fatto un ottimo lavoro. Sia con la serie Dead or Alive, che con il primo Ninja Gaiden. Quindi, lavorando su una macchina come Wii, che, appunto, penso la conoscano abbastanza essendo quasi della scorsa generazione, non dovrebbero aver fatto eccessiva fatica a tirare fuori un comparto tecnico ottimo. E sì, quindi ci aspetta un titolo molto interessante da Metroid. Bene, adesso la parola passa al nostro Megar, che ci vuole parlare di... Diciamo che si chiama Fist of the North Star, ma noi lo chiamiamo Okuto no Ken, che è il gioco di Kenshiro. Comunque, figlioli miei, per tutti quelli che hanno adorato Ken in Carriere, che cosa? Primo, tu non sei mio padre. Secondo, parla del gioco, vai. Terzo, io sono tua madre. Allora, andiamo avanti. Oddio. Kenshiro, sembra quasi essere tornato, figli miei, tutti quanti. Questa volta su PlayStation 3 e Xbox 360. Così ha esordito grosso modo il nostro redattore, che ha fatto l'anteprima, proprio pochi giorni fa, quindi adesso online, sulla home page lo potete trovare. Ma infatti mi sembravano parole troppo intelligenti per essere dette da te, ma niente, questa era solo una precisazione, vai pure. No, 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 me la sta suggerendo mia madre, c'ho qua mamma a fianco che mi legge quello che devo dire. Capito? Quindi mia nonna. Quindi tua nonna, bravo, sì, esatto. Niente, a parte i ringraziamenti per i due geni che hanno creato la saga, poi il gioco si presenterà sicuramente abbastanza interessante, visto che per la prima volta finalmente avremo un comparto grafico, sembra decente, con quanto riguarda tutta la gestione sia delle ambientazioni, che vabbè, sono le solite catastrofiche tipiche della saga, e sia del modello dei personaggi, che sembrano essere fatti discretamente bene. Certo, non ci sono tantissimi screenshots, però per il momento quelli che sono un attimino in giro sembra che, diciamo che ci sia un buon tasso grafico, e quindi è già un buon inizio. Come seconda cosa, bisognerà controllare il gameplay, bisogna vedere che cosa tirano fuori quelli della Koei Tecmo. Non è semplice, perché alla fine, lo sappiamo tutti, quando si va a parlare di un gioco che è stato tratto da un fumetto, da un anime, da una saga televisiva, da un... insomma, tie-in, trasposizioni, diciamo che ci si deve sempre andare con i piedi di piombo. Però questo giro, diciamo che le cose sono interessanti, perché? Si può utilizzare sia che Guerriere, sia Raul, sia i più famosi, che sono Toki, che sono Shin, insomma, diciamo che c'è anche Rei. Diciamo che i personaggi ci sono, quindi i fan della saga sicuramente saranno invogliati. Grazie. Grazie.